Siamo in via dei Bacini a Porto Cesario, alle mie spalle l'abitazione dove la notte scorsa poco dopo l'1.30 si è verificata una violenta esplosione, forse causata da una fuga di gas, successivamente le fiamme. All'interno dell'appartamento tre persone, due ragazzi di 23 anni e un uomo di 58 anni. Immediatamente è scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Le condizioni dei tre sono apparse subito gravi e sono stati tempestivamente trasferiti all'ospedale Perrino di Brindisi dove sono attualmente ricoverati in prognosi riservata in osservazioni. Le indagini per cercare di capire le cause che hanno provocato la violenta esplosione sono ora affidate ai carabinieri e dal nucleo investigativo dei vigili del fuoco. L'ipotesi più accreditata al momento resta però quella della fuga di gas. I tre feriti, due ragazzi di 23 anni ed un uomo di 58, tutti originari di Gravina di Puglia, sono ricoverati al Perrino di Brindisi in prognosi riservata. Il bilocale, avvolto poi dalle fiamme che si sono propagate subito dopo l'esplosione, è stato dichiarato inagibile. Grazie. Grazie.